Nel periodo di massimo splendore di Pisa, secondi undicesimo-quattordicesimo, i ponti principali erano quattro, robusti e imponenti. Costruiti con pietre e marmi della zona. Il ponte vecchio, e il ponte nuovo, centrali, mentre il ponte a mare, a ponente, e il ponte alla spina, a levante, erano fortificati e chiudevano idealmente il circuito delle mura. Non solo strutture di semplice passaggio dall'una all'altra sponda, ma anche elementi di vita pubblica, politica, religiosa, economica e militare di Pisa, una città potente che si andava espandendo. L e, g chiusa parentesi tonda gente pisane. Gli articoli. Proprio alla fine del quattordicesimo secolo, sotto il governo di Pietro Gamba Corta, il ponte principale fu spostato nel centro della città, anche se la denominazione attuale più probabilmente deriva dal nome del terziere di mezzo. Nei secoli si sono alternati oltre trenta ponti conosciuti o citati nei documenti, ognuno con nomi e caratteristiche costruttive differenti, legati a episodi famosi, o comunque inseriti nel quadro appassionante della storia millenaria di Pisa. Impossibile non citare il ponte Vittorio Emanuele II detto dei Moccoli, che univa San Piero a Grado a San Rossore. I Moccoli erano le gelide stalatiti che si formavano sotto le arcate o più verosimilmente le imprecazioni dei passanti nello scivolare sul ghiaccio, la struttura fu travolta nel giorno dell'Epifania, e mai più ricostruita. Oggi, ripensare quell'attraversamento in chiave turistica non sarebbe un'idea malsana. Curioso ricordare i ponti cittadini non aggettanti sull'Arno, come il ponte in ferro sul navicelli della tranvia Pisa-Bocca d'Arno, o il ponte della Campana, costruito sul wallo della cittadella nuova nel XV secolo e rinvenuto e integro solo nel 1980. Singolari le vicende del ponte della Vittoria, talmente appesantito di ornamenti marmorei che crollò il giorno prima dell'inaugurazione, 1934. Poi, come spesso accade, la guerra ha azzerato tutto. I ponti della città, sono stati bombardati o fatti saltare, nei mesi in cui proprio l'Arno faceva da confine tra tedeschi e alleati. E nel dopoguerra, per Pisa, non sono mancati altri danni sotto forma di architetture infelici e scelte stilisticamente errate. Gli attuali ponti sono figli di quel periodo, di valutazioni politiche assai controverse e di brutti progetti, a partire dal ponte di Mezzo, concepito come il suo predecesore, poi snaturato, una sola arcata e marmo bianco di Verona. Chi fu veramente a scegliere?